L'estate nella città di Arandel. Non potrebbe essere più calda o più sorruggiata, ma tutto sta per cambiare, per sempre. Frozen racconta la storia dell'amore tra due sorelle, ma è anche un'avventura, perché Anna, la principessa Anna, che è il personaggio che io interpreto, a un certo punto inizia questo viaggio sulle montagne, tra la neve e il ghiaccio, per andare a trovare la sorella. Ha tutte, secondo me, le caratteristiche giuste per, come sempre poi, per la Disney, per arrivare al cuore dei bambini, ma non solo. Le canzoni di questo film sono pazzesche, difficili da cantare, sono divertenti, sono romantiche. In Anna c'è molto di Sirena, c'è la spontaneità, il sorriso, la voglia di amare. Frozen è un film ambientato sulle montagne, sui ghiacci, la neve, come ti ci sei trovata. Ma mi sono trovata bene, perché in realtà, anche se l'ambiente intorno è freddo, la storia che si racconta è molto calda. È molto caldo, nonostante il freddo fisico che i nostri personaggi hanno provato in scena.